Buongiorno, giovedì 14 maggio, sono le 7 del mattino, si apre una nuova puntata con l'informazione, con la rassegna stampa, la lettura dei giornali, parliamo innanzitutto del cosiddetto decreto rilancio, vi ricordate era il provvedimento prima di aprile, poi era stato eronicamente ribattezzato maggio e adesso è il decreto rilancio, comunque è un provvedimento importante perché prevede misure per circa 55 miliardi, ieri lo ha annunciato il Premier Conte in conferenza stampa al termine di un Consiglio dei Ministri che era stato rinviato più volte durante la giornata perché il giorno prima c'erano state delle contrapposizioni, qualche frizione interna alla maggioranza tra il Movimento 5 Stelle, il Governo, il Partito Democratico e poi naturalmente con le critiche dell'opposizione in particolare della Lega. Vedremo nel dettaglio quali sono le misure contenute in questo provvedimento che è importante perché parliamo appunto di 55 miliardi, la parola adesso poi passerà al Parlamento naturalmente e poi guarderemo anche cosa sta succedendo con la pandemia, con il Covid-19 soprattutto nel resto del mondo, da noi in Italia lentamente stanno crescendo, con i dati che ci hanno preoccupato e giustamente ha ragione perché siamo arrivati a oltre 30 mila vittime e adesso negli Stati Uniti preoccupa molto l'andamento della pandemia, sono arrivate, anzi hanno superato le 84 mila vittime ma preoccupa anche quello che sta accadendo in Russia che è seconda al mondo per numero di contagiati e poi vedremo c'è anche a proposito un'intervista al Commissario Domenico Arcuri, lo sapete tutta la polemica legata alle mascherine, ai presidi sanitari, insomma vedremo che cosa ha da dire su questo e poi si parla ancora di Silvia Romano naturalmente per le minacce che ha avuto, per le polemiche legate al pagamento o meno, comunque non confermato ufficialmente di un riscatto dell'opportunità o meno di mandare appunto i volontari in alcune zone del pianeta a rischio, insomma ci sono molti argomenti e molti altri ancora. Allora andiamo a vedere, cominciamo dalla Corriere della Sera con il titolo di apertura, naturalmente è sul provvedimento, sul decreto rilancio, eccolo qui, aziende e casa, ecco gli aiuti, sì al decreto rilancio, dopo lo scontro conte come due leggi di bilancio, questo per sottolineare l'importo appunto 55 miliardi, accordo per la cassa integrazione e veloce. E poi la Ministra Lamorgè, abbiamo un'intervista proprio al Ministro dell'Interno, emersione per 200 mila migranti perché il punto diciamo di frizione che c'è stato in particolare era quello relativo ai migranti, ai lavoratori stagionali, alle corf e alle evadanti. E poi le lacrime del Ministro Bellanova, diverse hanno fatto notare questa assonanza, anche ricordate con le lacrime a suo tempo del Ministro Fornero. Così appunto è il titolo di apertura, leggiamo però anche il commento che abbiamo qui di Sabino Cassese a proposito di questo decreto, vediamo che cosa dice il titolo Le ombre sui tempi e sui modi, il decreto legge rilancio destina risorse per un ammontare pari circa un decimo del bilancio dello Stato, quasi il doppio dell'ultima manovra di bilancio distribuiti per il 25% alla cassa integrazione ai lavoratori autonomi, il 20% alle imprese, altri 10 agli enti locali, 10 alla sanità, quasi 10 a turismo e commercio e le quote restanti ad agevolazioni fiscali e a erogazioni a favore di categorie diverse come Colf e Badanti. Il testo subita ancora modifiche ed è quindi prudente soffermarsi sulle linee di fondo. Ancora l'intento è risarcitorio, ristabilire un equilibrio rotto non dalla pandemia, sostiene appunto Cassese, ma dall'azione governativa diretta a tenerla sotto controllo. Il mezzo consiste in elargizioni, così scrive appunto Sabino Cassese. E poi sotto il titolo che abbiamo di taglio centrale su, naturalmente parliamo di Silvia Romano, basta con l'assedio a Silvia e molti tornano su questa vicenda. Abbiamo anche dei commenti abbastanza forti, tra l'altro vedetevi, segnalo questo in basso di Antonio Polito, gli odiatori e il sessismo sullo sfondo. E poi sotto la famiglia, le serve serenità, si indaga su una bottiglia tirata contro la finestra, tensioni in aula. Questo per quanto riguarda appunto la vicenda di Silvia Romano. Così il Corriere della Sera, andiamo a vedere un altro giornale, andiamo a vedere l'apertura della Repubblica. Ecco qua il titolo d'apertura, tregua da 55 miliardi, scusate, ecco cerchiamo di rendere la cosa più fruibile. Il decreto per gli aiuti a imprese e famiglie congela lo scontro nel governo. Ieri c'è stata una conferenza stampa proprio del Premier al termine del Consiglio dei Ministri nella quale ha illustrato nel dettaglio i contenuti del provvedimento. Allora Conte, risposta a chi soffre, tasse tagliate alle aziende, fondi alla sanità, via libera, regolarizzazione di 200 mila braccianti e colf. Patuanelli, che viene intervistato proprio dal giornale La Repubblica, legge antiburocrazia. C'è anche un'intervista all'altro ministro, Provenzano. I Cinque Stelle scelgano con chi stare. E poi il commento, l'analisi, anzi qui di spalla a sinistra di Sergio Rizzo, è molto critico naturalmente su questo provvedimento. Tanti soldi, poco futuro, lo intuiamo già dal titolo. Di rilancio dice c'è soltanto la parola, non si intravedono strategie di sviluppo, investimenti degni di tal nome, un cambio di passo nelle pastorie burocratiche. La verità dice che questa maxi, maxi finanziaria dell'emergenza, contiene una sterminata serie di toppe, 256, dice quanti sono gli articoli. E poi vi segnalo su Silvia Romano l'altro argomento di queste pagine, il titolo del commento di Francesco Merlo, dice proteggiamo Silvia Romano, ma il governo avrebbe dovuto esibire Silvia Romano sul red carpet degli squilibrati di questo nostro disgraziato paese. Mai, scusate, dice, il governo avrebbe dovuto. Andava protetta subito, come si proteggono le cose più preziose, con il silenzio e il pudore della sua bella e lucida famiglia. E allora io mi fermo qui, linea alla regia, ci vediamo tra qualche momento e poi riprendiamo insieme la lettura dei giornali. Vi aspettiamo. E allora sono le 7.11 minuti e 43 secondi, ben ritrovati. Sono rimasto sulla prima pagina di Repubblica perché voglio segnalarvi, l'andremo a vedere, un'intervista al segretario della Nato Stoltenberg, lo vedete, il Covid usato da Cina e Russia per destabilizzare. Messo così è un titolo molto forte, quindi ci tenevo a sottolinearvelo. Lasciamo la Repubblica, andiamo a vedere il titolo di apertura della stampa. Eccolo qui, super manovra, 26 miliardi ai lavoratori. Varato il decreto, cancellata la rata IRAP di giugno, si è ristorio a fondo perduto per le aziende, lo smart working diventa un diritto. E poi sotto 16 miliardi per le imprese, conta interventi per l'emergenza, poi la riforma fiscale. Gualtieri, il ministro, evitato il disastro sociale. E poi, ecco, qui già ci anticipa qualcosa il giornale diretto da Giannini. A chi vanno i 55 miliardi? Allora, lo vediamo insieme. 12 miliardi liquidità enti locali, altrettanti aiuti alle aziende, 10 miliardi ammortizzatori sociali, 5 sanità e sicurezza, 4,5 bonus autonomi, 2,5 di miliardi turismo e cultura, 2,1 affitti per negozi e bollette. E poi questa fotonotizia, si torna a parlare di Russia, avete visto anche sulla Repubblica, c'era quel titolo forte dell'intervista del segretario della Nato. E qui la Merkel denuncia attaccata dagli hacker russi. Lo vedremo, poi ci sono due pagine interne dove si ricostruisce un po' questa vicenda, si traccia l'identikit di chi sarebbe questo hacker russo. E poi a sinistra invece vi segnalo la vicenda di Silvia Romano, Silvia offese in Parlamento e vetri contro la sua finestra. E poi il commento di Domenico Quirico, lo sapete, il giornalista della stampa rapito e poi liberato, è tornato in questi giorni a darci la sua lettura, la sua esperienza. Dice Tossi, pensa già al protocollo, al capitolato, al decalogo per i cooperanti, inevitabile soprassalto burocratico, dopo fregole, maledizioni, indignazioni, parossismi, il birignao dell'estate a casa, sciupa soldi, narcisisti, innescati della vicenda Silvia. Avverto, scrive Domenico Quirico, che poi prosegue a pagina 21, il suo commento, dice avverto un disagio immediato. E poi Elena Stancanelli, è molto dura anche lei, e torna sulla vicenda della Romano naturalmente, dice una femmina da sbranare, questo è il titolo, dice andava tutelata, nascosta, non era difficile, ma senza l'ostaggio imposa accanto alle istituzioni, la foto sarebbe venuta peggio. Così Silvia Romano è stata data in pasto ai maiali, noi che ce ne stiamo cibando da giorni, che eravamo affamati di corpi e allenati a battere sulle tastiere. Molto dura Elena Stancanelli su questa vicenda. Vediamo altri giornali, la verità, televendita del premere, interrotta dalle lacrime della bella nova Fornero, lo vedete, ritorna su quel parallelo che si è fatto tra le lacrime e la commozione di questi due ministri, di governi naturalmente diversi. Conte toglie la cassa integrazione, ma dà il condono a 500 mila immigrati. Dopo un'attesa estenuante, arriva un provvedimento che si sa, già insufficiente per cittadini e imprese, niente aiuti tra luglio e agosto, in compenso, con la scusa del virus, si regolarizzano gli stranieri e si sospendono i procedimenti penali per loro e i datori di lavoro. Così la verità, vediamo libero le prodezze di Conte e Soci, invece di arricchire il sud, il governo fa povero il nord, Palazzo Chigi, stanzia 55 miliardi, che non ha, regna la confusione, alle imprese in difficoltà, solo spiccioli e regole antieconomiche per chi vuole riaprire l'attività. E poi la fotonotizia, che ritrae Silvia Romano, è appena arrivata nella sua abitazione di Milano due giorni fa, che saluta, e poi Pagano della Lega scatenato, c'è stato un commento che aveva suscitato molte polemiche, perché è un commento che ha fatto nell'aula della Camera, dice la ragazza liberata sta con i terroristi. Questo è l'apertura di Libero. Vediamo il Sole 24 Ore, il quotidiano della Confindustria, naturalmente è molto attento alle vicende economiche di questi giorni, al decreto legge rilancio, da 55 miliardi. Eccolo il titolo. Taglio IRAP, ecobonus e aiuti al lavoro. E poi vediamo qui nel sommario, Conte, tagliamo 4 miliardi di tasse, Gualtieri, norme per prestiti più rapidi, dal Governo 25,6 miliardi per il lavoro, 15,16 per le imprese, e 3,25 per la sanità. E poi sotto, sanatorie, immigrati, contributi e forfè a carico dei datori. Ancora poi, CIG, Cassa Integrazione Inderoga, c'è l'accordo per velocizzare i pagamenti. Così il Sole 24 Ore. Andiamo a vedere il messaggero. Imprese e famiglie, ecco gli aiuti, varato il decreto rilancio, da 55 miliardi di euro, Conte, 25 miliardi per i lavoratori, 16 per le aziende, Cassa Integrazione allungata, l'Inps anticiperà il 40% dei pagamenti, migranti, sanatorie con paletti, Bellanova si commuove. E poi qui un'anticipazione, poi lo vedremo, c'è uno specchietto molto efficace per capire, riaperture, così le regole, le regioni inapplicabili. Ma vedremo poi nel dettaglio come e con che modalità appunto ci sarà questa riapertura, soprattutto di alcune attività commerciali. E il fatto, vi ricordo, che sarà possibile passare da una regione all'altro a partire dal primo giugno, sempre che, e facciamo gli scongiuri, le cose non debbano peggiorare. Il manifesto, la fotonotizia all'impresa, ritrae, vedete, una riunione del Consiglio dei Ministri, il travagliato decretone rilancio ha avuto il via libera dal Consiglio dei Ministri, 55 miliardi per riavviare l'economia colpita dal virus, Conte, 25 andranno ai lavoratori, 16 alle imprese, Confindustria in cassa, nel pacchetto anche aiuti a sanità e a famiglia, accordo faticoso con i 5 Stelle sulle regolarizzazioni di braccianti, colf e badanti. Il giornale, le mancette di Conte, finalmente il decreto, sconti fiscali alle aziende, aiuti alle famiglie, ecco le misure, soldi agli immigrati, no al bonus diretto per i medici eroi. E poi un commento di Berlusconi, ritardo grave, ora i fatti. Così il giornale, vediamo il giorno, lavoro, aiuti e bonus, ecco le misure, varato il decreto da 55 miliardi, andiamo a vedere il fatto quotidiano, ecco a chi vanno quei 55 miliardi, decreto legge rilancio, ce n'è per tutti, ora la prova dei fatti. Il foglio, vediamo il commento del direttore Cerasa, lo vedete qui dal suo simbolo, questa ciliegia, non c'è rilancio senza nuove dosi di libertà, più stato dove serve e meno stato dove si può, le imprese alla fase 2, paletti giusti per combattere la decrescita. Chiudiamo la lettura di queste prime pagine con avvenire, rilancio allo scoperto, approvato il maxidecreto da 55 miliardi, tra parentesi a debito, aiuti a imprese e famiglie, cassa integrazione più veloce, badanti e braccianti regolarizzati per sei mesi entro il 15 luglio, evitato il collasso delle paritarie. Così avvenire. Allora, vediamo rapidamente gli approfondimenti, prendiamo il Corriere della Sera perché nelle pagine 4, 5 e a seguire e mette per capitoletti per quello che ci interessa i contenuti proprio. E allora, vi leggo soltanto i titoli naturalmente per brevità, crediti, debiti, compensazione fino a un milione, accertamenti, l'invio degli atti slitta al 2021 e poi, a proposito dell'imponibile, indicisi a corretti per la crisi e sotto ancora incentivi, lotteria, scontrini, deciso il rinvio. Vediamo la pagina successiva a altri capitoli che ci interessano, contratti, lavoro a termine, rinnovi più facile, autonomi, il bonus maggio sale a 1000 euro, il sostegno, arriva il reddito di emergenze e poi, per quanto riguarda l'agricoltura nelle campagne, anche coin i sussidi. Ancora un'altra pagina, siamo a pagina 6 del Corriere della Sera, vediamo a proposito delle buste paga, pignoramenti, arriva lo stop, eccolo ve lo evidenzio, e poi abbonamenti rimborsati per quanto riguarda i servizi, trasporti, biciclette, un gettone previsto fino a 500 euro, e poi sullo smart working, qui in basso lo vedete, il settore privato, smart working con figli under 14, sotto appunto i 14 anni. Le regioni, vediamo che come sarà, diciamo, la nuova vita che ci aspetta, almeno nell'immediato, soprattutto per quanto riguarda nord, centro e sud del paese, e allora, Emilia Romagna e Veneto pronti a riaprire tutti, per il liberi tutti, anche Liguria, Friuli e Venezia Giulia, lo sapete, in questi giorni ci sono state posizioni diverse, rappresentate per il governo dal ministro Boccia, e poi rappresentate invece per quanto le regioni da alcune governatori, e appunto Liguria, Friuli, Venezia Giulia, Fontana della Lombardia, dice, si riparte, ma rispettando le norme, l'Inail, poi, cautela del Piemonte, Cirio, il governatore, aspetta le pagelle ministeriali, però vedete, Emilia Romagna e Veneto pronti a riaprire tutto, e poi, nel centro Italia, in Marche, in spiaggia, dal 29 di maggio, in Lazio i primi anticipi, il calendario, ecco, in questa sintesi, la Toscana è prudente, allentamenti graduali, in Umbria, alloggi non alberghieri, aperti dal mese prossimo, a Roma, da lunedì, i centri commerciali riprendono l'attività, chiudiamo con il sud, Calabria, lo sapete, le polemiche ci sono state, con la presidente Santelli del ministro Boccia, a pieno regime, la Sicilia, pressa Conte, Sardegna, ok, e voli nazionali e internazionali, dal 15, da 15 e 25 giugno, Puglia, estetiste e barbieri, al lavoro anche senza linee guida, Campania e Basilicata, rispettano le date indicate dall'esecutivo, insomma, mi permetto di dire che forse non c'è una grande omogenità, ma insomma, staremo a vedere, questo, invece questa pagina, sempre il Corriere della Sera, ve l'ho presa a proposito del, lo sapete, dell'app che si può scaricare, volontariamente sul proprio telefonino, per vedere se si è entrati in contatto, con una persona contagiata, vi leggo sul titolo, rischio hacker, dubbi sulla privacy, l'app immuni sotto accusa, e andiamo a vedere però, a questo punto, le interviste, vi avevo segnalato, c'è un'intervista al ministro dell'interno, Lamorgese, eccola qui, è un'intervista che trovate, sul Corriere della Sera, ecco il titolo, ora aiuti veloci, per non dare spazio a criminali, e tensioni, e sociali, allora vediamo qualche domanda, dice, vi accusano di un colpo di spugna, sull'immigrazione clandestina, risponde il ministro, chi parla di colpo di spugna, vuole far credere, che questa procedura di emersione, regolarizzazione, riguardi indistintamente, tutti i datori di lavoro, e tutti i lavoratori, ma non è così, sono previste accurate verifiche, prima dell'accoglimento della domanda, su condanne, e procedimenti penali, e pendenti, così il ministro dell'interno, Lamorgese appunto, vediamo però anche altre interviste, c'è un'intervista, questa su Repubblica, la trovate, al ministro Patuanelli, che è il ministro dello sviluppo economico, vi leggo per brevità di tempi, solo il titolo, si riparte, basta con la burocrazia, e fiducia nelle imprese, lo Stato deve lasciare liberi le aziende, di reinventarsi e crescere, ci saranno controlli, ma adesso stop alle scartoffie, abbiamo forse il tempo, anzi certamente, di segnalarvi anche questa intervista, che abbiamo sempre su Repubblica, al ministro Provenzano, sui migranti, compiuto un atto di giustizia, e 5 stelle scelgano tra destra e sinistra, rapidamente un'intervista, che abbiamo anche sulla stampa, in questo caso al segretario della Cisla Furlan, serve un patto sull'occupazione, l'Italia avrà bisogno del MES, e allora sono le 7.23 e 35 secondi, in linea alla regia, se volete ci vediamo tra poco, con tutte le notizie del telegiornale, a tra poco vi aspettiamo.